Musica Ben trovati in questa edizione di Licata News. In primo piano la cronaca, un'operazione di controllo del territorio è stata effettuata dai carabinieri della compagnia di Licata, scattate, sanzioni e denunce. Sentiamo i particolari in questo servizio. Negli ultimi tre giorni i carabinieri della compagnia di Licata hanno intensificato il controllo del territorio al fine di poter garantire maggiore sicurezza reale percepita dai cittadini ed esercitare un'azione di contrasto alla criminalità comune. In particolare i militari del nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Licata hanno garantito la presenza nel centro della città con più pattuglie automontate, pattugliando le principali arterie del centro e della periferia. L'attività, finalizzata a setacciare luoghi maggiormente frequentati da pregiudicati o comunque da persone sospettate di dedicarsi ad attività malavitose, ha consentito di controllare 68 persone e 56 veicoli circolanti sulla pubblica via. Sono state effettuate sette perquisizioni personali e veicolari, controllate 32 persone destinatarie della misura cautelare degli arresti domiciliari e della sorveglianza speciale con obbligo di sorgiorno, con un arresto in flagranza per evasione effettuato nella giornata di ieri dal nucleo radiomobile. 12 le contravvenzioni al codice della strada che sono state accertate e contestate ad alcuni automobilisti per un importo di circa 3.000 euro, di cui due neopatentati. 8 ciclomotori sono stati sottoposti a fermo amministrativo di 60 giorni in quanto il conducente non indossava il casco. 4 autoveicoli e motoveicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile automobilistica. 12 carte di circolazione e 3 patenti ritirate per infrazioni al codice della strada. Infine sono state deferite all'autorità giudiziaria BV, queste le iniziali 34enne disoccupato cittadino romeno, per porto ingiustificato di coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 10 centimetri. Un 35enne ricatese sorvegliato speciale di pubblica sicurezza per violazione degli obblighi della misura di prevenzione cui era sottoposto. Un 38enne ricatese disoccupato per guida senza patente perché mai conseguita, poiché sorpreso alla guida di ciclomotore sprovvisto anche di copertura assicurativa e con targa estera. E ancora un 19enne narese per guida senza patente perché mai conseguita e un 28enne gelese per guida sotto influenza dell'alcol, in quanto sottoposto ad accertamenti con apparecchiatura etilometrica si accertava che si era messo alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore alla norma. E nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Ravanusa in esecuzione dell'ordine di carcerazione messo dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Agrigento hanno arrestato Paolo Pirrera, 66 anni del luogo già noto alle forze dell'ordine, in atto sottoposto alla pena alternativa della detenzione domiciliare perché resosi responsabile di ripetute violazioni della misura alternativa alla detenzione in carcere cui era sottoposto. Lo stesso infatti nella giornata del 21 luglio era evaso dai domiciliari per poi essere sorpreso alla guida della propria autovettura per le vie della città e arrestato dai carabinieri. Nel vano tentativo di sottrarsi all'arresto dopo averli aggrediti e lievemente feriti, l'arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Agrigento. Un 41enne agrigentino è rimasto ferito anche se in maniera non grave giovedì sera l'uscita da un locale. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata colpita da uno sconosciuto alla schiena con un cacciavite. Nella ressa l'aggressore è riuscito a far perdere le sue tracce, quindi gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento guidati dal commissario capo Tommaso Amato hanno avviato le indagini. Il ferito invece è stato trasportato in ospedale dove i medici hanno prestato le cure del caso e lo hanno poi dimesso. Sono risultate fortemente inquinate le acque della foce del fiume Salso a Licata a seguito del monitoraggio effettuato nei giorni scorsi da Goletta Verde. Il risultato fortemente inquinato è il campionamento di acqua prelevato presso lo sbocco del depuratore alla foce del fiume Salso di Licata. E' questo l'esito del monitoraggio effettuato da Goletta Verde, la storica campagna di Lega Ambiente dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste delle acque italiane, realizzata anche grazie al contributo del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati. Il monitoraggio evidenzia una situazione critica, in particolare alle foci di fiumi, canali e torrenti lungo tutta la costa siciliana. I prelievi e le analisi di Goletta Verde sono stati eseguiti dal laboratorio mobile di Lega Ambiente nei giorni 8, 9, 11 e 12 luglio scorsi. I parametri indagati sono microbiologici. Dei tre prelievi nell'agrigentino due sono risultati fortemente inquinati. Alla foce del torrente Canzalamone, in località Stazzone del comune di Sciacca, e presso lo sbocco del depuratore alla foce del fiume Salso a Licata. Entro i limiti, quello effettuato ad Agrigento, località San Leone, presso la spiaggia nei pressi del parcheggio pubblico. Fortemente inquinate anche le acque prelevate alla foce del fiume Gattano, in località Macchitella, del comune di Gela. Nel Ragusano, invece, è risultato inquinato il campionamento alla foce Fiumara di Modica, in località Arizza, nel comune di Scicli. Mentre, entro i limiti, quello alla spiaggia di Piazza Mediterraneo, a Marina di Modica. 18 campionamenti su 26 eseguiti lungo le coste della Sicilia presentano una carica batterica elevata, superiore alle soglie stabilite dalla legge. Per 15 di questi punti, principalmente alle foci di fiumi, torrenti e scarichi, il giudizio è di fortemente inquinato. Una situazione che evidenzia un deficit depurativo, che non risparmia nessuna provincia siciliana, sicuramente già noto, e che rischia di compromettere non solo le bellezze naturali della regione, ma la stessa economia turistica. Per quanto riguarda il dato che emerge dal monitoraggio sulla foce del fiume Salso di Licata, interviene oggi la società Girgenti Acque, che precisa, le acque scaricate dal depuratore di Licata hanno già subito tutti gli opportuni processi depurativi e pertanto non sono inquinanti. Il fiume Salso, precisa Girgenti Acque nella nota, comunque, trasporta detriti raccolti anche in zone non ricadenti nell'area dell'impianto di depurazione, e assolutamente strane allo stesso impianto. Sarebbe un etiope, un certo Hermias Germai, il boss del traffico di esseri umani dalle coste libiche. Svelato l'identikit dell'uomo che sarebbe coinvolto nel naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa, dove morirono 366 persone. A rivelarlo è un'inchiesta della giornalista britannica Alex Crawford di Sky News, che cita come fonti la polizia italiana e il magistrato Jerry Ferrara, membro della DIA di Palermo e componente del pool antiscafisti. La reporter riferisce che la polizia italiana sta impiegando le stesse tecniche usate contro i padrini di Costa Nostra, riuscendo a intercettare le telefonate tra Germai e i suoi luogotenenti. Intanto sarebbero circa 40 le vittime dell'ennesimo naufragio a largo delle coste della Libia. E sono oltre 450 i migranti in arrivo a Pozzallo, mentre sono già sbarcati a Palermo 785 profughi. Un centinaio di migranti a bordo di un gommone in difficoltà nel canale di Sicilia sono stati soccorsi ieri dalla Guardia Costiera. Per lo più provengono dai paesi dell'area subsahariana, tra loro anche una bambina. I migranti sono stati poi trasbordati sulla nave irlandese dal dispositivo Triton, che a sua volta aveva già effettuato un altro soccorso nelle stesse acque. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha disposto il giudizio immediato per Eugenio Dorsi, 57 anni, ex presidente della provincia regionale di Agrigento, accusato di corruzione. Secondo l'accusa, Dorsi avrebbe ottenuto 40 palme da far piantumare nella propria villa in cambio della promessa dell'acquisto dell'intero patrimonio vegetale di un vivaio, così come citato in una determina del 12 ottobre 2010. Del caso si occupò anche la trasmissione Le Iene di Italia 1. Il processo inizierà il prossimo 5 novembre, davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Agrigento. Il procedimento scaturisce dall'inchiesta sull'ex amministratore pubblico, già condannato in un altro processo ad un anno di reclusione, pena sospesa per abuso d'ufficio. Un altro ritrovamento subacqueo di armi da guerra è stato effettuato in Contrada Montegrande. La Capitaneria ha già emesso un'ordinanza di divieto di balneazione, attività connesse al mare. Il servizio è di Giuseppe Cellura. A distanza di pochi giorni dal primo ritrovamento subacqueo di armi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, avvenuto nei pressi del castello di Falconara da parte del nucleo subacqueo del gruppo archeologico Finziade, si replica poco lontano. L'ufficio circondariale marittimo, diretto dal tenente di vascello Luca Montenovi, ha infatti ricevuto notizia di un ulteriore rinvenimento, stavolta ad altezza di Contrada Montegrande. In questo caso si tratta di una cassetta di proiettili bellici e di una bomba di forma cilindrica, anche queste quasi sicuramente appartenute a qualche convoglio militare della US Army, che nel luglio del 1943 sbarcò sulle coste licatesi, iniziando la liberazione dell'Europa dal nazifascismo. Le munizioni sono state notate da un privato cittadino, a un metro e mezzo di fondale, quindi a una bassa profondità e a circa 30 metri dalla riva. Dal circomare di Licata è stata immediatamente messa un'ordinanza, nella quale è stato specificato come, stante l'esistenza di potenziale pericolo, è interdetto il transito, l'ormeggio, la pesca e qualsivoglia attività marittima per una distanza di un raggio non inferiore ai 100 metri. Sono intanto giunti in città questa mattina gli artificiali della Marina Militare provenienti da Augusta. Il loro intervento è stato richiesto dalla Prefettura di Agrigento dopo il primo rinvenimento nei pressi di Falconara e l'informativa trasmessa dalla Capitaneria di Porto. Il Corpo Speciale della Marina con ogni probabilità opererà una ricognizione subacquea per sincerarsi da vicino della condizione delle armi che giacciono sul fondale e della loro eventuale pericolosità. Alla luce della seconda segnalazione è verosimile che la prossima settimana torneranno per eseguire i rilievi necessari anche in contrada a Monte Grande. Grande era l'attesa per la seduta all'Assemblea regionale siciliana. Attenzioni tutte rivolte alla presunta intercettazione telefonica tra il Presidente della Regione, Rosario Crogett, e il suo medico, Matteo Tutino. Ho vissuto in questi giorni i momenti più terribili della mia vita, detto il Governatore. Sono stati giorni di dolore e di pianto e so che anche molti di voi hanno condiviso questa sofferenza. È come se avessi rivisto un film di Chiara Crocetta, diverse volte proiettato attraverso il cui attacco al Presidente è diventato l'attacco alle istituzioni e all'intero popolo. L'orrore di quella montagna di fango mi urlava nella testa paralizzando la mia voce, contribuendo ad aumentare gli attacchi nei miei confronti, ha detto Crocetta. Sono felice che le procure siciliane abbiano smentito quelle accuse, ripristinando la verità. E del deputato nazionale del Partito Democratico, Antonino Moscat, l'interrogazione è indirizzata al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, sui contributi economici e di tempi di pagamento dovuti a chi sta svolgendo, grazie alla garanzia giovani presso gli enti o aziendi del territorio, un periodo di tirocinio. Come si ricorderà, la garanzia giovani, meglio conosciuta come Yacht Guarancy, è il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile adottato anche dal governo italiano. Verificate, spiega Moscat, le lamentele pervenutomi per i ritardi dei pagamenti e dei vari contributi economici dei ragazzi che hanno svolto i tirocini lavorativi a seguito di ricerche di chiarimento dei giovani coinvolti, che non sono riusciti a comprendere né le cause, né le responsabilità di questi ritardi. Ho chiesto al Ministro competente le ragioni dei mancati compensi e continua l'esponente PD ad adoperarsi immediatamente affinché si superi in fretta una situazione diventata ormai inaccettabile per tanti giovani. È ripreso il servizio di accalappiamento di cani randaggi allicata. Il canile municipale si alleggerisce intanto di 100 unità trasferite in due strutture della provincia di Enna. Ce ne parla in questo servizio Giuseppe Cellura. A seguito della convenzione siglata con le associazioni Dog House di Leonforte, Arca di Noè e di Regalbuto, il canile municipale di Contrada Pezza alleggerisce di 100 unità i propri ospiti. L'accordo con le due strutture operanti in territorio ennese ha permesso inoltre la ripresa del servizio di accalappiamento dei randaggi sul territorio comunale. Mercoledì, si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampo del canile municipale gestito dall'Associazione Delfini, sono iniziati i trasferimenti dei cani dalla struttura di Contrada Pezza ad altre strutture. Le operazioni dovrebbero concludersi lunedì o martedì al massimo. Contestualmente ai trasferimenti sono iniziati i primi prelevamenti. Si prevede la cattura di una sessantina di cani nel giro di qualche giorno. Non sarà ovviamente la soluzione generale al problema, ma è un modo per iniziare a ridurre il numero di animali a quattro zampe presenti sulle strade licatesi. L'obiettivo è quello di allontanare quanto prima dal centro abitato più cani possibili. C'è anche l'impegno di spesa da parte di Palazzo di Città, che è stato quantificato in 46.000 euro. Considerato che, si legge nella determina dirigenziale, non tutti i cani che verranno accalappiati saranno da microcippare e sterilizzare, poiché certamente vi saranno animali già registrati al comune di Licata e transitati nella propria struttura comunale. Resta di strettissima attualità la necessità di realizzare un canile di dimensioni più grandi di quella attualmente in funzione incontrata pezza. La Sicilia ha il primo posto in Italia nell'attivazione dei tirocini attraverso il programma Garanzia Giovani, gestito dall'assessorato regionale al lavoro. Sono stati oltre 22.000 i tirocini attivati. Il dato dimostra, ha commentato l'assessore al lavoro Sebastiano Bruno Caruso, che in Sicilia c'è fame di lavoro. Dall'altro che siamo stati pronti a dare risposte concrete a tanti giovani. Siamo in linea con le indicazioni dell'Unione Europea. Adesso ci fermiamo, diamo lo spazio alla pubblicità. Torniamo tra poco. Cioccolato Gombe, esclusivista a prodotti Michelin, in Viaggela Alicata. Domani Alicata cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 39 gradi, la minima di 26 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-nord-ovest al pomeriggio in moderati e proverranno da ovest. Mare mosso. L'umidità oscillante tra i 65 e l'84%. Questo programma vi è stato presentato da Dai Fratello Antona, grande la qualità, grande la scelta di piccolo, c'è soltanto il prezzo. Scusate se poco. Nuova El Sombrero, strada statale 115, contrada a Saffarello, Alicata. Seconda parte del telegiornale, con l'arrivo del weekend, torna in primo piano la questione legata alla diffusione sonora nei locali del centro. Prassi che va senz'altro regolamentata. Il servizio di Giuseppe Cellura. Urge l'adozione di provvedimenti per disciplinare la diffusione musicale nei locali del centro nelle serate del fine settimana. A lamentarsi e a sollecitare interventi sono stati molti licatesi, soprattutto giovani, alle prese con un vero e proprio bombardamento sonoro. Il sabato sera, in locali distanti, poche decine di metri l'uno dall'altro, vengono suonati infatti generi musicali spesso diametralmente opposti tra di loro, che più che allietare le serate finiscono con lo stordire gli avventori dei bar, visibilmente infastiditi da chi fa a gara per avere un decibel in più rispetto al locale concorrente, distante, magari pochissimi metri. Sulla questione abbiamo sentito l'assessore con delega allo sport, spettacoli e turismo Massimo Licata d'Andrea, il quale ci ha evidenziato come la situazione va senza dubbio regolamentata, cercando di creare una visione unanime tra i locali del centro, così da produrre sì la musica, ma che sia piacevole e non di disturbo. All'altezza di Piazza Progresso, tanto per portare l'esempio più lampante, sono presenti cinque locali che il sabato sera vedono la presenza di un elevato numero di avventori. Si potrebbe, per esempio, la buttiamo lì, mettere d'accordo tutti i locali nell'individuare un unico complesso musicale da collocare ad una distanza che possa coprire tutte le strutture, senza svantaggiarne né sfavorirne alcuna. In mezzo, come detto, ci finiscono i clienti costretti a tornare a casa con il mal di testa perché ubriachi di musica di vario genere. La speranza è che si possa trovare una soluzione prima della fine della stagione estiva, che altrimenti rischia di trascinarsi così fino a fine agosto, con la musica a fare da poco piacevole colonna sonora delle serate del fine settimana all'interno della Movida Alicatese. Negli anni Sessanta cantava quel motivo che ancora oggi rievoca bollenti estate all'insegna di pinne, fucile ed occhiali. Edoardo Vianello, con il suo abbronzatissima Sotto i raggi del sole, sarà in concerto ad Agrigento al Teatro del Porticciolo di San Leone il prossimo 4 agosto alle 22, nel contesto del cartellone estivo organizzato dal Comune. Prima di lui, sempre al Porticciolo di San Leone, arriverà la carovana di Sanremo Stori, in viaggio canoro fra i tanti successi della storica Kermes. E il 3 agosto alle ore 19 all'Expo di Milano, Sicilia Cluster, bio-mediterraneo, presentazione del romanzo Sicilia My Love di Enzo Randazzo, con invito alla lettura di Gisella Mondino. Il romanzo Sicilia My Love si snoda tra ambientazione realistica e mitiche, irruzioni di poeti e divinità, è un inno alle bellezze naturali della Sicilia, ai suoi valori, ai suoi ideali di laboriosità, generosità, ospitalità e solidarietà. È una testimonianza stretta del rapporto lettura e cibo, che contraddistingue tante pagine della narrativa antica, moderna e contemporanea. Sviluppa nel lettore un interesse per le tradizioni siciliane, con un'ambientazione in tempi moderni. Proveranno a stuzzicare la curiosità sul romanzo e a guardarlo da più punti di vista gli autori critici Claudia Brunetta, Daniela Rizzuto, Angela Balistreri, Paolo Marciante, Domenico Catagnano, caporedattore di TG.com24 e numerosi altri esponenti della cultura milanese. Riaperti i termini di iscrizione per la partecipazione alla consulta comunale delle associazioni e di volontariato. A darne comunicazione il dirigente del Dipartimento Affari Generali, la dottoressa Loredana Pira, mediante avviso pubblico rivolto alle associazioni presenti a Licata. L'avviso arriva a seguito della nota che porta la firma dell'assessore servizi sociali, Daniele Vecchio, con la quale è stato previsto di procedere alla riapertura dei termini delle iscrizioni per consentire ad ulteriori associazioni di recente costituzione la possibilità di partecipare alla consulta comunale delle associazioni e del volontariato. La consulta istituita dal Comune di Licata nel 2013 esercita funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e dell'Aggiunta per ambiti e materie attinenti all'operato delle associazioni che la compongono. Svolge altresì attività di studio e di ricerca, in particolare può avanzare proposte al Consiglio e all'Aggiunta per l'assunzione di iniziative specifiche al settore di competenza. È consultata in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e degli strumenti di pianificazioni. Le associazioni interessate tramite il proprio legale rappresentante potranno presentare richiesta di ammissione su apposito modulo di iscrizione allegato al regolamento e che è possibile ritirare presso l'ufficio relazioni con il pubblico, sito in piazza Matteotti 1, edificio Biblioteca Comunale. Le istanze di ammissione dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune entro e non oltre il 24 di agosto. Una cravatta con lo stemma di Agrigento e il simpatico cadò che il sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha voluto fare al presidente dell'Acra Gas Calcio Marcello Giavarini nel corso di un incontro svoltosi alla presenza dell'assessore comunale Giovanni Amico e del dirigente sportivo della società calcistica Peppino Tirri. In mattinata il sindaco Firetto aveva effettuato un sopralluogo allo stadio Esseneto accompagnato dal capo dell'ufficio tecnico e dal dirigente dei Vigili del Fuoco per una presa d'atto dei lavori più urgenti che verranno fatti prima dell'inizio dell'attività agonistica. Con questa notizia di sport è tutto, il telegiornale termina qui. Grazie per la cortese attenzione e l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci e buon fine settimana a tutti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS